Si dice, ma se l'andrangheta è così ricca, perché interviene anche sulla ristrutturazione di un marciapiede di 20.000 euro? Che noi abbiamo detto all'inizio che l'andrangheta c'è, dove c'è da gestire il denaro e il potere, in una regione dove la disoccupazione è al 27%, se io riesco a fare lavorare 5 padri di famiglia per 20 giorni su quel marciapiede, questi si ricorderanno di votare all'elezione il candidato prescelto dal capolocale. Quindi non è solo un fatto di guadagno dell'avanzia del 4%, è questo il fatto del potere, dimostrare che dove non riesce il sindaco, dove non riesce l'ufficio del comune, riesce il capomato. L'esternazione del potere, l'andrangheta, le macchie non hanno ideologie, non sono né di destra né di sinistra, le macchie votano per il cavallo vincente, il sistema elettorale attuale ha reso le macchie molto più forti rispetto a prima, perché anche se le macchie anche nei paesi più alti di stramafiosa sono una minoranza, ma basta controllare un pacchetto di voti che oscilli tra il 15 e il 20%, basta spostarli a destra o a sinistra, io concorrerò a decidere che farà il sindaco.